Ben tornati nella mia cucina mai dire dieta e qui a mai dire dieta impariamo non solo ricette gustose ma impariamo anche modo per affrontare la tavola con più saggezza allora quando parliamo di soul food ok soul food cibo dell'anima per spiegare adesso un piatto proprio importante che appiaccia a tutti quanti ma con un versante un variante super salutare ho chiamato un amico federico grilli sta qua con me ciao ciao gil e benvenuti anche alle nostre amiche è un piacere essere ancora in tua compagnia nella tua cucina è molto bello essere insieme e poi parliamo di soul food sono quei pietanze che sono un po più elaborati ma ci ricordano l'infanzia esatto le nonne i profumi i profumi le feste ok e quando parliamo di questa qualunque cosa che ha un impasto per me le polpette il polpettone l'hamburger io sono americana puoi immaginare l'hamburger allora che qual è la ricetta che ci ha portato oggi allora oggi ho portato una ricetta diciamo semplice alla portata di tutti è il classico hamburger però anche adatto per i nostri amici vegetariani vegani andiamo a farlo direttamente con i ceci i ceci infatti poi ceci è una bellissima sostanza mi piace perché proprio un ortaggio è un legume che ci permette di avere tante consistenze tante proteine tante fibre tante cose ma che tanto gusto ma andiamo a scoprire insieme ingredienti di questa ricetta un barattolo di ceci mezzo cipollotto mezza corota una fetta di pane in cassetta un uovo un cucchiaino di parmigiano olievo del curry e sale allora spiegaci come si prepara questi questi è veramente molto facile e direi che alla portata di tutti quanti bisogna avere un frullatore immersione con il suo cutter cioè il vaso con le lame quindi adesso gill all'interno del nostro frullatore andiamo a spezzettare una fetta di pane integrale e voi la faccio subito però possiamo anche dire ai nostri amici dove trovano se non ce l'avete a casa dove possono trovare su gm 24 troviamo tutti gli elettrodomestici adatti per la nostra cucina compreso il nostro mixer a immersione con ben cinque accessori e noi ne usiamo intanto uno che è quello che solitamente io per esempio a casa uso molto di più allora uso la pane in una sola prendiamone una sola la spezzettola un pochettino ok ok andare qui aspetta guarda ti do aspetta ti do anche un po di carota chiudiamo e frulliamo intanto la prima parte della nostra ricetta ok arrivo intanto io vado a tagliare il cipollotto datemi una seconda dai compro un vocale compro un vocale promesso 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 io prima o poi ci riuscirò aiutami ecco vai acceleriamo e usiamo il bottone sotto che è il bottone turbo e ci dà un po più di potenza allora ha visto perché tu fai la cucina io faccio il 315 ragazzi appena imparato una nuova cosa la cuba e io vado a pedalare vado a pedalare vieni qui no allora sotto è più veloce sotto è più veloce ok vieni quando ho finito il capo ok basta 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 è stato proprio duro ragazzi faticoso allora a questo punto all'interno del nostro bicchiere andiamo ad aggiungere un pochino di cipollotto questa volta la fai tu va bene ho paura del tuo produttore no sto scherzando ragazzi è bello giocare in cucina e qui torniamo alle spezie andiamo a mettere il curry buono senti il profumo ti piace la mia no va bene linguaggio scientifico buono 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 non ho detto il romenaccio buono andiamo a mettere i ceci ok andiamo a mettere un uovo leviamo sì sì ok e andiamo a mettere un cucchiaio sì perché di parmigiano perché ovviamente abbiamo bisogno di andare a legare tutti gli ingredienti come vedete è molto semplice andiamo direttamente col tasto turbo e teniamo premuto in modo tale che andiamo a creare un composto con tutti gli ingredienti che abbiamo messo all'interno allora nel frattempo che allora mi fermo un attimo ma nel frattempo che noi andiamo a preparare le nostre polpette andiamo a scoprire insieme le star di questa puntata il cece è la terza leguminosa per produzione mondiale dopo la soia e il fagiolo la coltivazione avviene principalmente in India, Australia e in Italia viene consumato principalmente in Liguria e in Toscana dove i piatti tipici a base di ceci sono la farinata o la panzissa nelle regioni centrali come Minestra o le regioni meridionali insieme alla pasta in Sicilia ne viene utilizzata la farina per produrre le pannelle l'impasto a base di farine di ceci viene fritto nell'olio i ceci sono nutrienti aumentano il senso di sazietà sono fonti di proteine vegetali hanno poche calorie aiutano a controllare le zuccheri nel sangue le fibre fanno bene alla digestione proteggono dalla malattia cronica inseribile facilmente nella dieta mai dire dieta perché noi odiamo la dieta io sono qua in compagnia di colui che abbiamo scritto insieme il dottor Sascha Sorrentino ciao Sascha ciao Gil allora mai dire dieta perché secondo te le diete funzionano? beh dipende quali diete facciamo no ma più che altro secondo te è più importante è più importante una dieta circoscritta o rimparare le buone e sane regole della nutrizione? guarda io ti dico sono molto più contento quando magari delle persone vengono in visita dopo il controllo e ti dicono guardi io la dieta non la guardo neanche più perché ormai ho capito come devo mangiare contare le calorie non è al 100% la soluzione? beh lo dicevamo nell'altra puntata alla fine se noi contassimo solo le calorie un bicchiere di vino ha le stesse calorie di un pugno di mandorle ma è evidente che l'impatto poi che dà sul nostro organismo è completamente differente quindi contare le calorie può essere un fattore importante però fino ad un certo punto come dire ho perso chili attenzione perché dipende che cosa ho perso perché se ho perso massa muscolare forse non valeva la pena quindi attenzione magari a fare quelle diete lampo 7 kg in 7 giorni perché spesso si perdono liquidi si perde muscolo ma non si perde grasso perché il corpo impiega circa 21 giorni prima di rinnovare il ciclo cellulare quindi una dieta per vedere i primi effetti devi almeno aspettare 3 settimane allora per dire questa ma è di ridire dieta guida nutrizionale 21 giorni dedicato alle ragazze a forme di mela e 21 giorni dedicato alle ragazze a forme di pera perché quello che ha appena detto Sasha è che si vede dopo 21 giorni un vero reale reale diciamo trasformazione fisiologico e metabolico e detto questo andiamo torniamo adesso a vedere le ricette di oggi mi raccomando rimanete sempre con noi perché Sasha Sorrentino ci insegna al meglio come affrontare le nostre diete e noi siamo ancora qui preparando nel nostro polpete abbiamo già scoperto diciamo quello che può fare per il nostro salute ma andiamo a completare la ricetta allora intanto Jill è stata bravissima perché ci ha preparato un battuto tu sei un amico lo sai che sei un amico sono tuo amico guarda quando ti serve una bella biciclata vieni da me io ti contro cambio esattamente allora come vedete abbiamo un composto umido buono denso se volete potete anche mettere solo l'albume levando il rosso quindi a maggior ragione più proteica esatto e a questo punto vi andiamo a mettere una piastra sul fuoco una padella antiaderente senza mettere nulla adesso io alzo un pochettino la fiamma, il calore ok e per fare voi quando vedete tutte queste belle polpette tutte uguali dite mamma mia le pesano no adesso vi svelo qual è il segreto le polpette si fanno con il porzionatore del gelato e così saranno tutte uguali ecco qua quindi basterà una pallina e avremo tutte le polpette uguali allora è chiaro che se io se io volessi posso in questo caso passarle un pochino nel pangrattato oppure le posso fare così se voglio questo impasto mi dà esattamente quattro hamburger diciamo normali o altrimenti esatto vedo un antipasto o un aperitivo un aperitivo esatto esattamente ma che stai scherzando e poi anche e soprattutto se mangiamo da soli Jill abbiamo più porzioni nel piatto quindi abbiamo la sensazione di mangiare di più di saziarci prima ma che stai scherzando e poi diciamo anche un altro trucchetto che molti non lo sanno mettete piatti più piccoli cioè anziché mettere un piatto normale se voi mangiate su piatti più piccoli le porzioni psicologicamente sembrano più grandi e ci possiamo saziare così se facciamo le polpette piatti più piccoli le posso ritornare e godere a più perché tutti quanti vogliono fare la seconda porzione esatto e in questo modo possiamo godere sia più porzioni ma sempre tenerci a regola perché alla fine qui su Maldiridiete stiamo proprio qui per imparare come affrontare la tavola con più saggezza poi alla fine e anche molto più gusto poi io devo dire vegani non vegani vegetariani non vegetariani le polpette di ceci sono buone buone sempre sempre la cosa importante allora abbiamo detto intanto ribadiamo quello che tu hai detto poco fa quindi poche porzioni cioè scusate anziché fare una porzione unica grande ne facciamo tante piccoline abbiamo la sensazione di mangiare di più di saziarci prima e di poterne avere ancora in realtà rientriamo sempre nella nostra dose che è importante da rispettare e poi andiamo a cuocere senza usare olio quindi una bella piastra antiaderente e andiamo quindi a cuocere le nostre polpettine a fiamma un po' vivace le facciamo bruscare perché in realtà qui stiamo parlando di ceci che sono già precotti possiamo usare ancora più buoni i ceci biologici quindi si tratta solamente di andare a scaldare il nostro prodotto ma noi magicamente siamo pronti? abbiamo avuto già uno due tre e tre spariscono le nostre diciamo le nostre polpette sono magicamente cucinate qua cioè questa è la cucina questa è meglio di un fast food ma è di dieta allora se poi vogliamo andare a fare un finger food o semplicemente ci vogliamo così andare a premiare perché oggi è stata una giornata importante il capo al lavoro ci ha gratificato ci ha detto quanto sei bravo allora ovviamente basta semplicemente andare a mettere gli stuzzicadenti un pochettino più carini un pomodorino una fettina e noi nel nostro piatto abbiamo tanti colori importanti per la vista e la sensazione di mangiare tanto e soprattutto sano poi io sono una persona che assolutamente io sono polpettara come si dice a Roma le polpette in qualsiasi salsa in qualsiasi mischia in qualsiasi modo non lo so a me mi appagano proprio l'anima non il palato l'anima perché comunque è una cosa che ci ricorda sempre casa esatto sono facili da preparare le possiamo anche preparare durante la giornata a tenere in frigo e magari scaldare nel forno a microonde quindi è un piatto che ci aiuta anche per una cucina veloce mi rivolgo soprattutto G tu lo dici sempre alle persone che lavorano e proprio per questo si nutrono in maniera sbagliata in questo caso ci sono tante ricette che grazie a Gil facciamo qui nel nostro programma nel suo programma no è il nostro programma che è con me e con tutti i miei amici che ci possono dare una mano anche per fare il salva cena o il salva pranzo salva pranzo portatelo con voi ricordate che se io porto il pranzo con me uno risparmio soldi sicuramente mangerò meglio e poi è una scelta più intelligente per la nostra salute grazie Federico sempre grazie a te Gil ricordiamo sempre che Federico ha un blog tutto su noisingolincucina.it così possono sempre scoprirti a larga scala per tutto quello che fai esatto e voi rimanete sul canale 237 qui a Energy dove scopriamo un sacco di cose interessanti per la salute pace per ora ci vediamo alla prossima puntata insieme ciao grazie a tutti Grazie.